Il Presidente della Lega ha scritto ufficialmente chiedendo alla città di Catania di fare un sacrificio. Se non lo facciamo noi questo sacrificio, la squadra di Lentini rischia di essere radiata e di non poter completare il proprio campionato. Si tratta di un periodo delimitato, di due o tre mesi. Insieme con l'assessore Schalf abbiamo trovato la soluzione, ho ricevuto il segretario generale della Lega e la Leonzio giocherà a Catania con il pieno accordo della Catania Calcio che ha espresso parere favorevole e ha dato il suo pieno consenso. La Leonzio ha un problema relativo in particolare all'impianto di illuminazione. La Leonzio si è impegnata a fare questa trasformazione nel giro di due o tre mesi al massimo. Altri stadi, l'Akragas è la stessa cosa, va a giocare a Siracusa. Non ci sono altri stadi, ci siamo rivolti dopo che Messina è stato dichiarato inagibile. Ci siamo rivolti, ha fatto un appello insieme al presidente Gravina, al sindaco e all'assessore allo sport. Con grande spirito di solidarietà e di abnegazione hanno consentito e consentiranno alla Leonzio di giocare. È un bene per la Sicilia, per Catania, per il calcio e noi siamo veramente grati.